Elemento scp 0011 0011 E' 007 Perché una frase è la prima frase E mi sono impappinato e vai E partiamo subito benissimo La gente è 0011 Per motivi di sicurezza La polizia dovrebbe cominciare Ad almeno 30 minuti dopo il tramonto La polizia Nooo Mi giuro che ero spettamente presto Che l'ho letta anche io polizia Non pianta No come questo audio Lo faccio di 20 minuti Solo per farti editare tutto quanto No ma hai detto E sparare agli uccelli che tentavano Di defecare su di esso Che cosa vuol dire defecare? Ah ok Le segnalazioni riportano che alcuni dei suoi movimenti Che producono alcuni lievi suoni di frantumanzioni Oh ma sempre Phantom manzoni Phantom freddy Registrato come SCP Mi sono detto Ho detto la cagata Si è sentita Faccio finta di niente Continuo Non se ne accorge nessuno Registrato come SCP 00 Di nuovo Pure io 14 marzo 1997 Gennaio Febbraio Marzo Apri Sì Sì Era apri Era apri Fanco Stupido apri 17 No No dovevo fare il conteggio Prima 17 maggio 2015 Ma no Quello era il microfono Non ero io Non ero io No no Non ero io I residenti di Woodstock Si fanno delle canne Perché A Woodstock Questo si fa 30 settembre 1955 La sta Che cag... Sì Tornate dietro nel tempo